è un lavoro di traduzione simultanea dobbiamo fare delle domande ad una persona che parla solo cinese preferiremo la massima segretezza possibile anche guardare solo in faccia il nostro signor Wang la metterà in una posizione molto difficile non ti fidare cosa state cercando di fare? ma siete impazziti! continuare a lavorare al buio per me è impossibile è pronta a pagarne le conseguenze grazie a tutti